Palazzetto dello Sport gremito ieri sera a Pordenone, in occasione delle celebrazioni del 50esimo anniversario del Concilio Vaticano II. In un'atmosfera suggestiva, il Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini ha presentato ai sacerdoti della Diocesi le linee guida per il nuovo anno. Credo che sia un momento di festa non solo per noi Diocesi di Concordia Pordenone, ma per tutta la Chiesa. Benedetto XVI questa mattina ha aperto l'anno della fede per tutti e ha ricordato i 50 anni del Concilio. Penso che per noi sia un'occasione essere qui questa sera a 50 anni da quella data memorabile per la Chiesa e per la società. Credo che questa sera sia una celebrazione eucaristica della comunità cristiana, ma sono invitati anche i sindaci come segno che siamo qui come società. Erano presenti anche i rappresentanti delle principali istituzioni e numerosi amministratori pubblici, tra cui il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Il momento dopo 50 anni di ripensamento, il fatto che ci sia questo anno di rilancio della fede e quindi di tentativo di rinnovamento della fede nel mondo cattolico, che sia credenti o si sia laici, fa aumentare l'attenzione, fa capire che di nuovo dopo 50 anni siamo in un periodo in cui forse bisogna interrogarsi e capire dal punto di vista dei valori in che direzione vogliamo andare e come vogliamo interpretarli, questi valori, in un contesto che è cambiato e a volte in modo drammatico. Quindi è una coincidenza che ci sarà utile perché ci farà confrontare, ci farà pensare, ci darà forse degli spunti in generale, proprio come società, per capire che direzione prendere. Penso che sia stato uno degli eventi in cui di gente se ne è vista e se ne vedrà di più, quindi un momento in cui l'indicazione è chiara, tutti abbiamo bisogno di fermarci un attimo, di capire per poi con queste idee rilanciarci sia moralmente che dal punto di vista valoriale.